Sì, grazie Presidente. Io intervengo per fare complimenti come già fatto in Commissione al lavoro che è stato svolto e in particolare per dire due parole sul lavoro che da nove mesi e mezzo portiamo avanti per il rifacimento delle palestre scolastiche che si tratta di una piccola voce in termini quantitativi all'interno di questo bilancio ma è un intervento importante per quanto riguarda gli effetti sulla città e quindi innanzitutto è un risultato molto importante quello che abbiamo ottenuto perché oltre ai 500.000 euro previsti nel bilancio che abbiamo già approvato a fine anno in questa variazione vengono messe a disposizione ulteriori risorse ed è davvero un risultato storico per il Comune riuscire a riportare attenzione finalmente a un tema che era stato dimenticato per decenni e infatti appunto ricordavo il 30 di agosto dell'anno scorso, io ho scritto a tutti i municipi abbiamo fatto un lavoro condiviso con tutti per andare ad individuare tutte le palestre con problemi di agibilità che senza questo intervento da settembre sarebbero rimaste chiuse perché inagibili e quindi grazie per aver trovato queste risorse perché sono importanti ed è il ringrazio anche, approfitto per ringraziare una piccola collaborrice della Commissione che ha colorato con questo disegno la differenza tra uguaglianza ed equità noi fino all'anno scorso abbiamo applicato il tema dell'uguaglianza ovvero abbiamo dato la possibilità di ristrutturare una palestra per ogni municipio proprio grazie a questa ricognizione effettuata per la prima volta siamo andati a avere i dati che ci hanno fatto capire che in realtà i municipi sono tutti diversi alcuni hanno più bisogno degli altri e quindi abbiamo applicato il principio dell'equità e non dell'uguaglianza, quindi vogliamo portare tutti ad avere le stesse condizioni perché partiamo ai noi da situazioni totalmente differenti l'una dall'altra quindi mi fa piacere evidenziare questo risultato al quale tengo e di cui sono soddisfatto ringrazio quindi tutti i colleghi che hanno aiutato l'amministrazione a raggiungere questo risultato ci sono anche ancora dei miglioramenti da fare e penso ai municipi che hanno finanziato questi interventi con una fonte di finanziamento che non rende immediatamente pubblicabili i bandi quindi mi riferisco alle entrate derivanti da francazioni e non da mutuo quindi ecco c'è ancora da migliorare un pochino ovviamente ci impegneremo per farlo già magari dalla prossima variazione e concludo qui il mio intervento, grazie